...pagato il segnale di teo. Ah, eh. Ah, non so chi c'è adesso. Un uomo che uscita un figlio sotto gli occhi del padre? O uno che viene pagato per farlo continuare a uscita? Tanto per essere già. Non ho mai voluto ritenziare l'uomo che è originista. E' vero, io credo assolutamente che in questo sistema giudiziario ci vedo con tutto il mio cuore e tutta la mia. Grazie. Ma non posso lasciare che si prenda la vita delle persone che amano, lo capisce questo? Grazie. Grazie.